Il nostro gruppo di catechismo ha affrontato durante l'anno catechistico le virtù teologali, cardinali e l'accoglienza presentando le famiglie cristiane. Con questo video vogliamo portarvi a conoscenza del lavoro fatto con i nostri ragazzi. Quali sono le tre virtù teologali? Sono la fede, la speranza e la carità. Una virtù, cioè una qualità, è teologale, cioè relativa alla teologia, quindi alla dottrina di Dio. Noi siamo seminatori di gioia. Cos'è la fede per te? La fede è un rapporto personale con Dio che non si impara sui libri ma è un dono da chiedere. È paragonabile a un seme che, se curato, piano piano cresce fino a diventare un albero maestoso. Un esempio di grande fede è quella di Abramo. Lui si è fidato così tanto di Dio da lasciare il suo paese ed era disposto anche a sacrificare il figlio Isacco. Dio chiama Abramo e Sara genitori di un intero popolo. La testimonianza di Giulia Gabrielli fa riflettere sull'importanza della vita e di come tutti, grandi e piccini, possano fidarsi di Dio. È stata una giovane italiana proclamata serva di Dio dalla chiesa cattolica. Nasce il 3 marzo 1997 e, fino al 1 agosto 2009, vive la sua vita come una normale ragazzina della sua età. Quel giorno, però, mentre con la sua famiglia si trovava in vacanza al mare, Giulia si accorse di una tumefazione sulla mano sinistra. I genitori pensavano fosse una puntura di insetto. Dopo fare accertamenti, la diagnosi di Giulia risulta essere quella di un tumore, un sarcoma fra i più aggressivi. Affronta una chemioterapia e, apparentemente, risulta star bene. Dopo un po' di tempo, purtroppo, il sarcoma si ripresenta. Giulia aveva un talento particolare per la scrittura. Durante il suo cammino, Giulia si imbatte nella figura di Chiara Badano, che rappresentò per lei un esempio da seguire, in modo che la malattia non l'abbandonasse la Signore, ma l'avvicinasse a lui. Eccatasi a Padova, per una radioterapia, entrò nella Basilica di Sant'Antonio, dove, anche grazie all'incontro con una donna in preghiera, ritrovò quella gioia nell'affrontare il suo calvario, che non l'avrebbe più abbandonata. Giulia morì a Bergamo la sera del 19 agosto 2011, mentre era in corso la Via Crucis dei Giovani, durante la giornata mondiale della gioventù di Madrid. Oggi riposa nel cimitero monumentale di Bergamo. Il 7 aprile 2019, presso il santuario della Madonna dei Campi di Stezzano, Monsignor Beschi ha dato avvio alla fase diocesana del processo di beatificazione, proclamando Giulia serva di Dio. La speranza. Dai a Dio le tue debolezze e Lui ti darà la sua forza. La speranza avvolge la vita come un'ondata di bene, di grazia e di felicità. Nei momenti difficili, spesso ci dà la forza di andare avanti. La speranza cristiana è l'attesa di una cosa che è già stata compiuta e che certamente si realizzerà per ciascuno di noi, la nostra resurrezione. La carità. Il termine carità rappresenta l'amore nei confronti di Dio. Si ritiene che essa realizzi la più alta perfezione nello spirito umano. La carità è una virtù, cioè una qualità, teologale, cioè relativa alla teologia, quindi alla dottrina di Dio. La carità è la presenza viva di Gesù che si è donato al mondo con tutto se stesso. È un amore fraterno che consiste nell'aiutare il prossimo. Tra le diverse famiglie cristiane ci sono delle differenze nelle preghiere, nei riti, nei sacramenti e nelle figure ecclesiastiche. La nostra è quella cristiana cattolica e ha come capo della chiesa il Papa. Siamo incentrati particolarmente sulla figura di Gesù e abbiamo sette sacramenti. Il battesimo, la confermazione, l'eucaristia, la penitenza, l'unzione degli infermi, l'ordine sacro e il matrimonio. I protestanti si dividono in tante famiglie, ma quella più conosciuta è quella dei luterani. Fondata da Martin Lutero, monaco tedesco, nel 31 ottobre del 1517, affigge sul portone della chiesa di Wittenberg in Germania le sue 95 tesi che esprimevano pareri anche contro il pagamento delle indulgenze. Favoriscono un contatto diretto con la Bibbia, che è la loro fonte primaria. Hanno solo il sacramento del battesimo e della santa cena, che è più o meno paragonabile alla nostra eucaristia ed è intesa di più come aspetto di cena che come aspetto sacrificale. Come nella chiesa cattolica i sacerdoti guidano le varie comunità, così tra i luterani ci sono i pastori. Gli anglicani nascono nel 1534 con Enrico VIII, il quale, dopo che Papa Clemente VII nega l'annullamento del matrimonio con Caterina d'Aragona per sposarsi con Anna Bolena, decidere di separarsi dalla chiesa di Roma. La loro liturgia è quella che assomiglia di più alla nostra e anche loro hanno l'ordinazione presbiterale, quella di sacerdoti e quella episcopale, quella dei vescovi. Le chiese ortodosse nascono nel cristianesimo orientale, che è per lo più di lingua greca e vivono separate dalla comunione, con la chiesa cattolica dal 1054. Non riconoscono il Papa come il capo della chiesa, ma il patriarca ecumenico di Costantinopoli. La loro preghiera del credo è diversa, in alcune parti dalla nostra. Hanno sette sacramenti identici a quelle cattolici. Le virtù cardinali sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Si chiamano così perché sono il cardine della vita cristiana e regolano le nostre azioni, le nostre passioni e il nostro comportamento verso i principi della fede e della ragione. La prudenza è prima di tutto una virtù naturale, perché nella vita di tutti i giorni ci permette di riflettere prima di agire, ad esempio guardare a destra e a sinistra prima di attraversare la strada. La prudenza è una dote anche della santità e ci rende consapevoli che prima di prendere una decisione bisogna pensarci bene. La persona prudente si preoccupa e si impegna di fare sempre ciò che è buono, ascoltando la retta coscienza, discerne le situazioni e si rientra verso il bene. La giustizia è la virtù che regola e ordina i rapporti sociali ed è necessaria per costruire un mondo più giusto e fraterno. Nasce dal vivere i due comandamenti dell'amore, amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi. Essere giusti vuol dire incontrare Gesù nel fratello, come ha fatto Santa Madre Teresa di Calcutta. Dio ci insegna che essere giusti vuol dire essere misericordiosi, cioè aperti al perdono. La fortezza è la virtù che nelle difficoltà assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene senza perdere la speranza e la gioia di credere in Gesù. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni, di superare gli ostacoli della vita e ci rende capaci di vincere la paura. La temperanza è quella virtù che ci aiuta a controllare i piaceri e grazie allo Spirito Santo far prevalere la ragione sull'istinto. Essa ci distingue dagli animali e ci fa vedere tutto con cuore e occhio puro, perché tutto è stato creato da Dio, quindi tutto è buono. La temperanza ci aiuta a vivere in armonia e in comunione con Dio e con tutto il creato.